Ciao da Antonio di Calzature Nucca e benvenuti alla quarta puntata dell'Apriscatole passata la Pasqua, ci dirigiamo verso la festa del 25 aprile e proprio in occasione della festa del 25 aprile questa puntata dell'Apriscatole avrà durata fino, quindi la nostra offerta, fino a lunedì 25 aprile in cui per le persone che ci seguono dalla zona di Verona saremo aperti anche tutta la giornata del 25 aprile e quindi vi aspettiamo il negozio. Oggi andiamo a vedere anche oggi un insieme di calzature di diverso tipo, di diverso colore, di diverso affoggia e quindi avremo idea di quello che è un po' l'offerta complessiva del nostro negozio. Naturalmente ogni offerta, ogni scarpa che ti proponiamo dovrà sempre rispettare la nostra filosofia che, come forse oramai hai già imparato, sono le scarpe di moda che non fanno male e partirei subito con le prima novità che è una vera e propria novità perché è appena arrivata ora in negozio da pochi giorni e si tratta di questa scarpa, è una scarpa spuntata, anzi scusami spezzata, come vedi punta chiusa, tallone chiuso e cinturino e la particolarità sta nel plateau, quindi tacco grosso 8 cm, plateau di 2 cm, quindi in realtà il tacco è di 6, molto facile e questa forma bella grintosa, bella squadratona. Il colore che ti proponiamo in questa settimana come offerta è il colore jeans ed è sicuramente un colore veramente grintoso e nuovo di questa stagione. Seconda proposta di questa settimana abbiamo la nostra sneaker della settimana che è questa, eccola qui, di Crime London con questo effetto vintage il puntale che ricorda un po' le sneaker degli anni 70 che adesso sono di gran moda, abbiamo il nostro bel plantarino estraibile con un paio di centimetri di altezza, la scarpa è tutta bianca sporcata con il talloncino fucsia, la suola è di gomma molto flessibile, vedi con questo effetto vissuto. Terza proposta, uno dei mocassini più nuovi di questa stagione, ti faccio vedere il perché. Allora come concetto principale è quello della forma, la forma è una squadrata asimmetrica e piuttosto voluminosa, quindi questa è una formona che adesso stanno proponendo le firme quindi un po' i concetti più avanti di scalzatura, la scarpa come vedi è super flessibile con la lavorazione al sacchetto e abbiamo un tacco 50 molto camminabile, il tutto in naplac bianco quindi questa vernice con effetto stropicciato. Proseguiamo la nostra offerta con un altro mocassino ma questa volta cambiamo completamente altezza, formato, materiale quindi qua andiamo in nappa, questo pellame morbidissimo, abbiamo il tacco 10 con un plateau interno, una zeppetta interna se vogliamo definirla di altri 10 quindi tacco ai 20, il materiale appunto è morbidissimo e flessibile anche questo grazie alla lavorazione a sacchetto che è questa cucitura che vedi all'interno che rende la scarpa molto morbida e imbottita, quindi qui hai un po' la funzione del mocassino, un po' della ballerina, un po' della scarpetta bassa perché la forma è sfilata e quindi molto raffinata. Ti faccio notare anche la particolarità dell'accessorio che è fatto con questa pelle tutta intrecciata. Chiudiamo le nostre proposte da donna con un bel chanel anche questa volta colorato, abbiamo questo chanellino in colore fucsia, in nappa quindi anche questa morbidissima, la forma rotonda e il tacco di 8 centimetri leggermente a rocchetto, fondo cuoio, scarpa prodotta anche questa in veneto e quindi anche scarpa insomma che dire è una garanzia per i tuoi piedi anche se porti i tacco. Passiamo ora alle proposte da uomo e per prima cosa partiamo con una sneaker molto particolare, sneaker running quindi con questo fondo della Vibram è di P448 fatto in questo tessuto mesh con il camoscio grigio e il profilo azzurro. Eccola qui è una scarpa leggerissima e dalla forma anatomica perfetta quindi calza molto bene il piede, accoglie l'arco plantare e rende la scarpa davvero super comoda e leggera nel passo. E chiudiamo con le offerte da uomo con un mocassino che racchiude assieme un po' il concetto della moda di adesso cioè il mocassino e la suola sneaker, addirittura questa suola è in gomma di cauciù naturale quindi è morbidissima, gommosa proprio bellissima al tatto e in più ti faccio notare anche magari da vicino la pelle che è una pelle lavata quindi ha questo effetto chiaro scuro che quando anche portandola diventa proprio questo effetto schiarente e quindi conferisce al mocassino quel gusto davvero artigianale e diverso. Bene è arrivato il momento come al solito adesso di vedere quali sono le offerte della settimana. Ti ricordo che appunto scadranno il lunedì 25 aprile e partiamo con la nostra bella scarpa spezzata in jeans con il plateau che costa 165 euro e che per questa settimana puoi avere a 132. la sneaker vintage costa 159 euro e per questa settimana la puoi avere a 127. il mocassino in aplac bianco costa 265 euro e per questa settimana lo puoi avere a 212. il mocassino artigianale cuoio costa 269 euro e per questa settimana lo puoi avere a 215. lo chanel fucsia costa 188 euro e per questa settimana lo puoi avere a 150. la running gialla costa 269 euro e per questa settimana la puoi avere a 215. infine il mocassino blu costa 228 euro e per questa settimana lo puoi avere a 182. bene anche per questa settimana è tutto ti ricordo che queste offerte le puoi trovare in negozio a San Bonifacio in Corso Venezia numero 13 e anche nel nostro sito www.calzaturenucca.it dove puoi acquistare in piena autonomia se vuoi. Da Antonio è tutto ci vediamo il prossimo settimana ciao